Buongiorno, buon lunedì e ben trovati alla nostra consueta rassegna stampa del mattino. Vediamo insieme le principali notizie che compongono i quotidiani di oggi e partiamo dagli ultimi aggiornamenti che riguardano un terribile fatto di cronaca che questo weekend ha scosso le marche, in particolare la provincia pesarese. Se siamo a Fano, lo ricorderete, dove appunto sabato hanno perso la vita tra le onde un papà e un bambino di otto anni. Queste sono appunto le parole che leggiamo sul Corriere Adriatico della mamma del piccolo, della moglie, dell'uomo scomparso. Non ce la faccio, non ce la faccio. Poi Stefania riabbraccia suo figlio proprio perché appunto tra le onde ha rischiato di perdere la vita anche un altro figlio della coppia che poi fortunatamente si è salvato. E allora appunto mamma Stefania era ieri al Salesi, l'ospedale pediatrico ad Ancona per riabbracciare il suo secondo genito, il dodicenne, che si sta riprendendo bene da un principio di annegamento. L'ho incontrato di prima mattina e poi di nuovo nel pomeriggio, superando anche un momento di totale sconforto. Non ce la faccio, non ce la faccio, ripeteva appunto la donna. Il dodicenne, sopravvissuto alla tragedia di sabato scorso, avvenuta in un braccio di mare davanti alla spiaggia libera a Gimarra di Fano, in una caletta dove inizia la massicciata radente alla linea ferroviaria. Hanno invece perso la vita appunto il suo fratellino Fabio, di nemmeno otto anni, e il suo papà Davide Zandri, operaio metalmeccanico 44enne, travolti entrambi dalle onde di una micidiale burrasca originaria di Cartoceto, 43 anni. Sabato scorso Stefania era stata trasportata all'ospedale Santa Croce per un forte stato di shock, dopo che nel giro di pochi secondi aveva visto sparire in acqua suo marito e due dei loro figli. Il terzo quindicenne era rimasto a casa a Calcinelli, ieri le salme del piccolo Fabio e del suo papà erano ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'obitorio dell'ospedale Santa Croce, ma sembrava di fatto esclusa la necessità di un esame autoptico. Nel corso della stessa giornata si è quindi fatta a largo la possibilità che il duplice funerale del bambino e di suo padre Davide sia celebrato domani o al massimo il giorno seguente nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli di Colli al Metauro, un episodio tragico reso ancora più angosciante dal fatto di sapere che il piccolo Fabio era disperso mentre infuriavano onde di una potenza tale da scavalcare le scogliere anti-erosione da una parte all'altra. Si è protratta per ore e ore la disperata ricerca del corpicino che ha impegnato elicotteri di guardia costiera, vigili del fuoco e dell'esercito oltre a vari mezzi in mare e sommozzatori, mentre spiaggia, la polizia locale e i carabinieri si occupavano di tenere i curiosi lontani dalle zone delle ricerche e delle operazioni preparatorie. Il bimbo di otto anni senza vita è stato ritrovato intorno alle 16.20 dello stesso giorno sotto la scogliera radente, poco più a nord del punto dove le onde lo avevano travolto. I nostri pescatori spiegano che simili condizioni di mare può trovarsi in difficoltà anche un adulto se non si sia un nuotatore esperto e preparato. Chi si trovi in acqua è infatti in balia di due spinte opposte, una dei cavalloni che spingono verso la costa e l'altra della risacca che porta verso il largo. La corrente che si genera è fortissima ed è pericolosa anche qualora si tocchi con i piedi sul fondale. Gli zandri sono originari di Rupoli a Orciano di terre roveresche dove è tuttora la casa di famiglia. Sono qui per governare il mio orto, il mio giardino. Raccontava ieri il marinaio fanese Mario Facchini che ha un'abitazione nelle vicinanze. Mi ho dovuto fare forza su me stesso. Tanta era la tristezza di tornare in un luogo dove ho visto crescere Davide. Ieri qualcuno ha posato un massetto di fiori sulla massicciata che protegge la ferrovia dalle mareggiate. Dunque questa è la cronaca, il riassunto di quanto è avvenuto questo weekend. Ma ci sono anche delle riflessioni da fare. In parte le abbiamo viste. Il mare è così forte, così impetuoso, così agitato. E allora, leggiamo anche qui, invece sul resto del Carlino, il piano di sicurezza in mare fu bocciato. Parla uno dei bagnini che ha tentato di salvare padre e figlio. Serviva un serio pattugliamento delle coste specie per le spiagge libere. La vita continua, recita un vecchio adagio. Ma sulla spiaggia dei fiori a Gimarra, dove sabato appunto mattina sono annegati Davide Zandri e il figlio di nemmeno otto anni. Ieri pareva che non fosse successo nulla, non un mazzo di fiori, nemmeno un messaggio scritto da qualche parte nel luogo, teatro del drama, ridosso della scogliera, dove ieri appunto erano sdraiati alcuni turisti tedeschi. Più hanno postato messaggi di vicinanza alla famiglia sui social, mentre spiaggia, affollatissima già dal mattino, la leggera brezza ha permesso di ammainare la bandierina rossa del giorno prima e issare quella bianca via libera ai bagni in mare, quindi ma sempre con la dovuta prudenza, sottolinea Enzo Maggi, uno dei bagnini che sabato mattina ha prestato soccorso a Davide Zandri, per il quale purtroppo ogni tentativo è stato vano, e al figlio Luca, 13 anni, che invece appunto è riuscito a salvarsi. Il mio progetto di sicurezza in mare è stato bocciato, ha spiegato Enzo Maggi, 55 anni appunto, che gestisce 6 torretti di salvataggio sulle spiagge libere di Marotta, costringendomi ad autofinanziarmi per acquistare una moto d'acqua. Si trattava di un piano di pattugliamento delle coste operato da professionisti del salvataggio, in accordo con la Capitaneria. Il piano avrebbe consentito di intervenire in modo rapido e sinergico, ma è rimasto tutto sulla carta. Nessuno l'ha preso in considerazione, chiosa il presidente di Mare Dentro, né il comune che, a mio avviso, dovrebbe rinnovare un piano spiagge vecchio di 30 anni, né le aziende private che avrebbero dovuto versare almeno un piccolo contributo. Così, dopo gli infruttuosi tentativi, ho comprato a mie spese una moto d'acqua. Non si è realizzato il programma che sognavo, ma almeno ho dotato l'associazione di un mezzo indispensabile. Il problema, conclude Maggi, è il costo della benzina alle stelle, che significa che per un pieno si devono sborsare 150 euro. Nella postazione di Mare Dentro, tra Bagni Crida e Spiaggia dei Fiori, ieri c'era Eleonora Raffelli, titolare di una rivendita di prodotti sanitari, promotrice della donazione di alcuni defibrillatori, amica della famiglia Zandri. Mio figlio ha la stessa età del piccolo Fabio, dice che andavano a scuola insieme all'elementare di Calcinelli. Si rifletta su questa immane tragedia, prima di respingere progetti per migliorare la sicurezza in mare. Questa è la riflessione, un ulteriore passaggio per tentare di riflettere anche su quanto è accaduto per cercare di evitare che tragedie di questo genere si possano ripetere. Restiamo in tema di spiagge, cambiamo però decisamente pagina e parliamo di turismo. I dati che arrivano, lo leggiamo qui su Corriere di Atrico, sono confortanti. Sì, il turismo fa il botto più 5% sull'era pre-covid e tornano gli stranieri. E quindi si torna appunto a muovere questo settore dopo i due anni di pandemia. E vediamo dunque come Marche Monamour dopo due anni con il freno a mano tirato, il turismo riparte a gonfie vele nella prima estate libera dalle misure anti-covid. Nella nostra regione tornano a fare capolino anche gli stranieri. Il boom di presenze si era percepito già nei trend dei primi mesi del 2022. Giugno ha confermato la congiuntura positiva trainato dagli importanti flussi di turisti che arrivano per godere del litorale da bandiera blu. Il dato consolidato dai mesi tra gennaio e maggio elaborato dall'Osservatorio regionale del turismo parla di 489.500 arrivi, quindi un più 72,7% sul 2021 e oltre un milione e mezzo di presenze. Anche qui vediamo c'è una crescita del 39,6%. Andando ad analizzare il segmento che riguarda gli stranieri si può vedere come gli arrivi abbiano fatto registrare un più 255% sul 2021, dato che si spiega anche con il fatto che lo scorso anno fossero in vingore le restrizioni anti-covid sui viaggi ed un più 176,3% nelle presenze. Un trend decisamente positivo che è proseguito anche a giugno, benché in questo caso non si possa parlare di dato consolidato dal momento che le strutture recettive hanno fino al 15 luglio per comunicare all'Osservatorio il quadro delle prenotazioni e delle presenze. Ma sulla base di un'indagine condotta da CNA Commercio e Turismo sono 60.000 gli stranieri approdati nelle Marche a giugno per un totale di 280.000 pernottamenti. In particolare sono olandesi, inglesi e tedeschi ad apprezzare le nostre terre, ma anche svizzeri e belgi, fa sapere il direttore di Conf Commercio Marche Massimiliano Polacco. In generale le prenotazioni per luglio ed agosto sono molto buone, quasi da tutto esaurito, mentre settembre è ancora fermo. Praticamente sold out, la riviera del Conero, grande protagonista di quest'estate, quest'anno la stagione è partita in anticipo, giugno ha fatto registrare ottimi risultati, riuscendo ad andare oltre il 5% in più di presenze rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi appunto dati anche antecedenti alla pandemia, le strutture recettive hanno dunque fatto meglio anche rispetto all'era pre-Covid. Un risultato non scontato che si cerca di capitalizzare, questa è una prova generale, prosegue polacco, soprattutto per far ripartire la presenza di turisti stranieri che è sempre stata scarsa nella nostra regione. Una grossa spinta al turismo straniero nelle Marche, l'ha data intanto il territorio di Pesaro Urbino. Secondo l'indagine di CNA Turismo e Commercio sono stati 25.000 agli arrivi di turisti internazionali per un totale di oltre 100.000 pernottamenti con una media di quasi 5 notti a beneficio della spesa in ristorazione, shopping, turismo culturale e degli eventi. Dunque appunto vediamo che torna a muoversi appunto il fronte del turismo, tornano i turisti anche stranieri nelle Marche dopo le difficoltà chiaramente emerse negli ultimi due anni di pandemia. Ma andiamo avanti e si parlava prima di Riviera del Conero, però ci sono anche delle note dolenti da sottolineare e allora la vediamo tornando anche appunto alla nostra notizia di apertura e quindi alla tragedia di Fano dove un papà e il figlio di 8 anni sono morti inghiottiti dalle onde. Proprio questo fatto suggerisce una doverosa riflessione sui pericoli del mare e di una baglia, i piedi del Conero sommersa da regole e di vieti che in pochi rispettano. Si continuano a sottovalutare i rischi di una falesia fragile che perde quotidianamente pezzi tra frane e smottamenti. Si chiudono gli occhi di fronte ai ragazzini che si esibiscono in tuffi spericolati dal molo o peggio ancora dallo scoglio della vela anche se poi l'altra mattina in spiaggia sono piombati i poliziotti per riportare all'ordine un gruppo di adolescenti scalmanati e da sempre la tintarella nei tratti di litorale interdetti alla bannazione e allo stazionamento. Il trave non solo è divenuta una normalità. Il problema vero è che mancano i controlli senza i quali ogni cartello di divieto o segnalazione di pericolo diventa superfluo. E allora ecco che al molo di Porto Nuovo si continua a fare come se nulla fosse. Anche ieri decine di ragazzini hanno trascorso la splendida giornata di sole esibendosi in zucchetti da brividi e in giochi pericolosi sul molo. Evidentemente non è bastata la presenza della polizia intervenuta il giorno prima su richiesta dei bagnanti, disturbate anche dal chiasso, delle committive di giovani. D'altronde qui sul molo il cartello di divieto di tuffi che era misteriosamente scomparso è stato ripristinato solo dopo la segnalazione di questo giornale a testimonianza del fatto che le stesse istituzioni hanno un atteggiamento forse troppo morbido nei confronti dei trasgressori. Basti pensare alle zone a rischio frano dove stendersi a prendere il sole è vietato perché ogni tanto qualche masso si stacca dalla sommità e precipita e spiaggia a partire dalla zona del trave soggetta a continui crolli. Nell'ultima settimana sono state segnalate almeno due frane eppure molti continuano a raggiungere in barca o via terra quest'angolo di falesia paradisiaco attraente come un frutto proibito per fermarsi a fare il bagno e i fanghi in barba ai cartelli di divieto di stazionamento. Negli ultimi anni c'è chi ha rischiato di lasciarci le penne investite da una pioggia di pietre cadute dall'alto. Forse è il caso di prevenire prima che sia troppo tardi. Fa specie che siano spariti diverse segnalazioni di pericolo come nei pressi degli scogli oltre la spiaggia libera ex Ramona verso nord dove è vietato l'accesso alle due calette proprio sotto la falesia. Anche ieri piene di gente mentre più a sud sotto le terrazze c'è un'altra zona presa abitualmente ad assalto dai bagnanti eppure off limits. Se accondi vediamo si torna anche ovviamente sul tema della sicurezza in spiaggia anche alla luce di quanto accaduto. Ma andiamo avanti perché si parlava anche di spiaggia, di manutenzione delle spiagge in particolare una riflessione anche dopo i danni causati dalle mareggiate della scorsa settimana e quindi lo vediamo. Ripascimento a Porto Novo, intervento da 200 mila euro. Tiene banco a Porto Novo il possibile utilizzo del molo legato sia alla sicurezza come punto d'approdo in caso di emergenza che come argine alla forza del mare. Dopo gli operatori che avevano parlato della necessità di rinforzare i sassi nella punta estrema, ormai tutti caduti in acqua e di allungarne il perimetro per confidare su un baluardo efficace, anche Daniele Sivetti, presidente del Parco del Conero, entra sull'argomento anche alla luce dei previsti interventi programmati dalla Regione. Il prossimo anno la Regione dice ha messo a bilancio un importante intervento di oltre 200 mila euro per la prossima estate per operare un robusto ripascimento in grado di ricreare la spiaggia erosa dal mare. Nel contempo c'è stata una richiesta del Comune per mettere mano al molo per una rifioritura di scoglie per un progetto che possa pensare ad un suo efficace utilizzo. Queste dunque appunto le novità, i lavori che in futuro si sta programmando di portare avanti. Scuola appena finita, si sono appunto conclusi gli esami di maturità ma si parla e si vede già ovviamente a quelle che saranno le esigenze del prossimo anno. E allora qui andiamo in particolare sul Corriere Adriatico, stiamo in provincia di Fermo, organici, nessun taglio, la didattica è garantita. Questa è appunto la decisione dell'ufficio scolastico regionale negli ultimi tre anni di crescita del rapporto tra alunni e classi. Nessun taglio degli organici ma un'evoluzione che negli ultimi tre anni ha fatto registrare una decrescita sia del rapporto alunni-classi che del rapporto docenti-alunni. Questa è la presa di posizione dell'ufficio scolastico regionale che risponde a quanto detto dalla UIL scuola. Il rapporto alunni-classi dice l'USR negli ultimi anni è calato da 18,59 a 18,08 nella primaria e da 21,21 a 20,9 nella scuola secondaria di primo grado. Solo per le superiori si registra temporaneamente un lievamento dell'indice da 21,40 a 22,50. Un fenomeno comprensibile dato che l'organico di docenti è rimasto per lo più invariato mentre il numero degli alunni cala di anno in anno tanto che anche il rapporto di docenti-alunni è calato negli stessi anni da 1,87 a 1,56. L'ufficio poi replica anche su quanto detto in merito alle aree interne. Bisogna chiedersi, dicono cosa vuol dire che gli alunni non possono andare a scuola nei propri territori. Se si intende disporre dell'erogazione del servizio a non più di 10 minuti di percorrenza si può affermare che pressoché tutti gli studenti del primo ciclo delle Marche frequentano la scuola nel proprio territorio. Se si intende altro occorre puntualizzare cosa si intende, fermo restando che la riduzione della popolazione scolastica è avvenuta nonostante la presenza di scuole e non solo nelle aree interne. La riduzione delle classi attivate e dei plessi funzionanti è la conseguenza della diminuzione della popolazione e non il contrario. Da Ancona arriva anche una riflessione sull'efficacia della didattica che scrive l'USR. Nell'interesse degli alunni necessita l'istituzione di punti di erogazione secondo gli indici stabiliti dalla legge di edifici appropriati e di personale selezionato, aggiornato e formato anche con le realtà del lavoro. La polverizzazione dei punti di erogazione della didattica, specie nel secondo ciclo. A discapito della funzionalità in alternativa alla creazione di servizi educativi residenziali, la confusione delle tipologie per istituzioni scolastiche e il loro sottidimensionamento vanno a danno dell'efficacia didattica. Quanto agli indirizzi, e qui il riferimento è anche a quelli musicali, come espressamento citato dalla UIL, precisa infine l'USR, sono previsti in ragione dell'esigenza del contesto socio-economico e produttivo. Non è condivisibile una diffusione solo territoriale e l'impegno dovrebbe essere indirizzato per migliorare la lettura del contesto in cui programmare l'offerta formativa, escludendo ragioni locali o occasionali. Dal canto suo, il segretario regionale UIL Scuola, Antonio Spaziano, precisa che quella del sindacato è una riflessione di carattere generale. L'USR non è una controparte, spiega Spaziano, anzi vorremmo fosse nostro alleato nel rappresentare che la pandemia ha messo in risalto come il DPR 81 non risponda né alle mutate esigenze di sicurezza e distanziamento, né alla salvaguardia in un territorio già duramente colpito dal sisma. Servono delle scelte coraggiose, ritengono alla UIL e Spaziano osserva che per il calo demografico non serve né essere inermi né seguire la logica dei tagli. Organici più ricchi e classi meno numerose consentirebbero di recuperare un gap formativo legato alla pandemia. Questa dunque è il botta e risposta che prosegue proprio in tema scolastico tra l'ufficio scolastico e il sindacato in particolare della UIL. Ma andiamo avanti e restiamo in tema di giovanissimi perché continuano ad arrivare purtroppo notizie di atti vandalici ad opera appunto di giovanissimi. Allora vandali, ragazzini, terzo assalto, rotti i bagni del parco Gabbiano, non c'è pace a Torrete, dopo i giochi anche i sanitari out, residenti esasperati, vengano i vigili. I baby vandali di Torrete sono tornati a colpire, stavolta hanno preso di mira i bagni pubblici, hanno sfondato un WC rendendolo di fatto inutilizzabile al punto che sulla porta d'ingresso è stato affisso un cartello per segnale che il bagno è attualmente chiuso per atti vandalici. Si tratta del terzo blitz nel giro di cinque giorni. Continua la sfida dei teppisti alle forze dell'ordine ma anche agli abitanti di Torrete è sempre più inferociti e sconfortati. Aveva suscitato clamore la prima bravata di lunedì scorso. Alcuni ragazzini avevano danneggiato i giochi inclusivi appena inaugurati dal comune, pensati per far divertire i bambini con disabilità insieme agli altri. Un raid spacca tutto perfezionato a tempo di record perché quei giochi erano stati installati pochi giorni prima nell'ambito di un appalto complessivo da 200.000 euro che riguarda anche la riqualificazione di attrezzature ludiche per altre aree verdi della città. Un grupetto di ragazzini ha pensato bene appunto di accanirsi sui giochi saltandoci sopra. Hanno danneggiato delle trottole, disegnato scarabocchi sullo scivolo, suscitando l'ira dei residenti. Immediata è stata la risposta dell'amministrazione comunale che ha provveduto ad effettuare le riparazioni rendendo fruibili i giochi già dal giorno successivo. Sono dei vigliacchi, non hanno rispetto per nessuno. aveva tuonato l'assessore alla manutenzione Stefano Foresi. Ma queste dunque appunto le ultime novità anche sotto questo punto di vista per quello che riguarda ovviamente il tema appunto del vandalismo. Ma vediamo anche un altro fattore che ovviamente fa preoccupare le poche piogge. Quindi il bisogno ribadito anche da tanti sindaci anche attraverso ordinanze in alcuni comuni marchigiani di non sprecare l'acqua. C'è anche questa novità qui. Niente sprechi negli erogatori d'acqua. Sono in arrivo le pulsantiere a tempo dopo l'ordinanza finomata dal sindaco. Verrà contingentato l'utilizzo di fontanelle docce e lavapiedi. Dunque appunto lo vediamo. In arrivo le pulsantiere temporizzate per ridurre il consumo di acqua negli erogatori pubblici. La decisione è arrivata dopo una riunione tra l'assessore e le manutenzioni Stefano Foresi e i tecnici comunali. Un passaggio d'obbligo prima di mettere tutto nero su bianco verrà fatto in giunta. Ma è praticamente cosa fatta? Tanto che le pulsantiere sono state già ordinate. Annuncia Foresi. Intanto da mercoledì scorso è in vigore l'ordinanza comunale valida fino al 30 settembre per limitare il consumo idrico. Vietato l'utilizzo dell'acqua per fini provati se non per motivi di igiene personale e di abbeveraggio di animali. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Via il classico rubinetto a farfalla. Le fontanelle comunali verranno amodernate con l'inserimento del pulsante intelligente che consentirà l'erogazione temporizzate con un ridotto afflusso di acqua così da assicurare un minore spreco. L'intervento verrà effettuato anche su tutte le docce, le fontane e lavapiedi degli stabilimenti balneari da Palombina al Passetto. Mentre non c'è nessuna disposizione in merito all'attività delle fontane nelle piazze della città. I monumenti storici della fontana dei cavalli e delle 13 cannelle sono già inattive. Idem quella sulla rotatoria di piazza Rosselli, la fontana dei due soli e il portantico, quelle di piazza Dias e piazza salvo d'acquisto utilizzano il riciclo dell'acqua mentre le fontanelle di piazza Cavour e piazza Stamira si attivano con dispositivo orario. Vedremo anche se ridurre il tempo di attività di quelle due fontane, specifica Foresi, perché spreca previste estanzioni fino a 500 euro. Ma è difficile immaginare un controllo serrato nelle case. Dovremmo distrarre il nostro personale da tutte le altre mansioni, afferma il vicecomandante della polizia locale Luca Martelli, che è impensabile. Dunque, come verrà gestito il monitoraggio delle nuove regole in vigore, ci stiamo adoperando per organizzare una forte campagna informativa, più che repressiva, spiega Martelli. Poi vedremo se tramite i vigili di quartiere riusciremo a mettere in campo controlli più capillari. L'ordinanza specifica che si dovrà limitare l'irrogazione in una fiatura di orti, giardini e prati, consentendola per non più di tre giorni alla settimana ed escludendo l'intervallo dalle 7 alle 22. Mentre è vietato il lavaggio dei cortili e dei piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana, con la raccomandazione di effettuare tale attività dopo il tramonto. Vietato anche il lavaggio privato di veicoli, ancora il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private. Il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate alle attività economiche, turistiche o sportive. Quindi appunto queste le restrizioni che dicevamo. Abbiamo ancora però qualche minuto e allora lo dedichiamo appunto a quest'altra notizia. Siamo ad Ascoli, Tufilla, il sogno grazie a due punti che gara, festa grande per la vittoria del Palio di luglio, vinto per un soffio sul campione innocenzi, Gubbini, ho dato il massimo. Le vittorie spesso aiutano a risolvere i problemi e cancellare i malumori. Spesso appunto, ma non sempre, la speranza dei sesteranti di Porta Tufilla comunque è che il trionfo, la quintana di luglio, possa essere come un vaccino contro i dissapori e quelle tensioni interne che hanno caratterizzato gli ultimi mesi affinché appunto tali situazioni non accadano più. Il tampone comunque in casa rosso-nero è ancora positivo ma la negativizzazione potrebbe esserci a breve. Questo ovviamente giusto per restare nella metafora anche grazie al lavoro che ormai da oltre un mese sta svolgendo il commissario Cristiano Fioravanti. Un bel messaggio distensivo inoltre è arrivato subito dopo la giostra dal console Francesco Mazzocchi, rientrato dopo la squalifica di un mese che gli era stata combinata a seguito del commissariamento. Questa vittoria è dedicata a tutto il comitato che purtroppo non c'è più, senza distinzioni ha spiegato il console di Portatofilla. Celebriamo un bellissimo successo che deve servire a riconciliare l'ambiente nonché rappresentare un punto di partenza verso altre vittorie future. Un trionfo comunque che ha avuto il sapore del brivido perché ha ottenuto con soli due punti di vantaggio. È stata una bellissima sfida ma senza la nostra penalità alla seconda tornata sicuramente il divario sarebbe stato più ambio. Piò è andata in scena comunque una lunga notte di festa nella sede rossonera alla quale hanno partecipato circa 500 persone. E dunque questa era la nostra ultima notizia. Io mi fermo qui. Per il momento vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che tutte le news sono aggiornate direttamente sul sito e sui social di ATV Marche. Quindi vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.